In questa puntata, buoni propositi, sviluppo Toscana. I buoni propositi dei consiglieri della Regione Toscana per l'anno 2023. Le priorità devono essere quelle che per noi sono un po' la bussola del lavoro già in questi anni. Lavoro, ambiente, formazione, in linea con quello che è stato il lavoro anche di quest'anno. Vorrei però prendere un impegno insieme a tutti gli altri eletti nell'Assemblea legislativa. Cerchiamo di costruire le condizioni perché nel prossimo anno mettiamo sempre più in campo proposte di legge che poi si trasformano in legge per offrire più diritti e più opportunità soprattutto ai giovani e alle donne. E in arrivo la proposta con cui finalmente metteremo a disposizione delle giovani coppie l'asilo nido gratuito sotto un certo livello di sé. Questo sarà una delle prime iniziative in questa direzione. Questa deve essere la strada da tracciare nei prossimi anni e poi fare in modo che la sanità arrivi sempre più vicino ai cittadini. Con un impegno che un bimbo che nasce nel paese più periferico della nostra regione abbia gli stessi diritti di un bimbo che nasce a Firenze. Per il 2023 un impegno importante a fare delle scelte importanti per la Toscana. Penso sul piano regionale di sviluppo che deve vedere i territori protagonisti. È un piano dei rifiuti. Soprattutto l'assunzione di responsabilità a importanti decisioni che mancano da troppi anni in Toscana. A margine di queste due grandi decisioni che ci vedranno impegnate a mio avviso nei prossimi tre mesi dobbiamo definire come allocare le risorse comunitarie dei prossimi sette anni. Queste risorse comunitarie devono essere allocate a favore di quei territori che meno di altri hanno beneficiato delle risorse del PNRR. Questo elemento a nostro avviso è fondamentale e proviamo a farlo nei primi mesi dell'anno. Il tema centrale rimane quello sanitario. Dobbiamo superare le difficoltà dei cittadini toscani nella prenotazione delle visite sulle liste d'attesa. Dobbiamo garantire anche la possibilità all'interno dei centri privati di poter svolgere le visite convenzionate e quindi garantire un plafond per le visite convenzionate nei centri privati sanitari. Dobbiamo lavorare affinché i nostri medici e infermieri possano essere gratificati di più e anche economicamente per quello che fanno. Tanti sono poi gli aspetti dal punto di vista ambientale. Dobbiamo lavorare seriamente su quelli che sono i piani regionali. Dal punto di vista dell'energia, dell'acqua, dei rifiuti. Smetterla di fare gli stati generali della salute, della cultura, dello sport, dell'ambiente. Ma dobbiamo iniziare a legiferare, lavorare e cambiare veramente questa regione anche dal punto di vista legislativo che è il nostro compito qui in Regione Toscana. Continuare con un'attenta attività di monitoraggio e ispettiva ciò che fa la Giunta. Continuare a dire ai cittadini tutto ciò che non va e fargli capire che sono attori partecipi della politica che devono ancora più diventarlo. Il Movimento 5 Stelle si strutturerà sempre di più sui territori e lo farà in questo momento parlando di alcuni argomenti che stanno a cuore delle persone. Le comunità energetiche, uno strumento eccellente per superare l'attuale crisi amministrativa. La questione della sanità, appunto. Dobbiamo riportare la sanità vicino ai cittadini e la scuola, la cultura, l'istruzione che deve finalmente ritornare a essere una parte centrale anche della nostra attività. Il buon proposito è uno, quello di riportare la Toscana dove merita di stare. La Toscana è la regione che storicamente tutti individuano come il faro della sanità nazionale e oggi non è più un faro ma anzi sta tra le peggiori d'Italia. Non è più la regione guida o tra le regioni guida nel campo delle infrastrutture. Anzi, un tempo si diceva che da un punto di vista infrastrutturale la regione toscana era una delle grandi regioni del nord. Oggi la regione toscana da un punto di vista strutturale è una delle regioni del sud in difficoltà che non riesca a collegare il proprio capoluogo, una città importante come Firenze, conosciuta in tutto il mondo, apprezzata in tutto il mondo, con l'aeroporto e il porto. Non esiste. In Toscana siamo in questa situazione, abbiamo un gap incredibile che pagano i residenti di alcune zone. Ci sono ancora tantissime zone della Toscana che non hanno neppure una copertura con la rete, non sono ancora connessi digitalmente. Si paga un digital divide incredibile. Ma vi sembra normale che nella Toscana nel 2024-2023 un ragazzo che nasce a 100 km di distanza da un altro nasca e parta già 10 passi indietro rispetto all'altro? Il 2023 vede l'attuazione delle indicazioni che abbiamo approvato a seguito di questi percorsi ma soprattutto l'impegno principale sarà quello per l'approvazione del piano regionale di sviluppo. Vale a dire il piano che farà da cornice a tutte le politiche, a tutte le scelte, a tutte le strategie che il governo regionale dovrà portare avanti. Quindi il piano regionale di sviluppo sta arrivando in Consiglio. Noi abbiamo anche anticipato come gruppo alcuni incontri sui territori per iniziare a raccogliere anche da questo punto di vista delle indicazioni. Ci sono importanti investimenti che dovranno proseguire o che potranno iniziare. La Darsena Europa, appunto, il raddoppio della ferrovia Pistoia-Lucca, la viabilità regionale. Ho visto che stanno arrivando i treni che fanno parte del contratto che da assessore avevo anche siglato con Trenitalia. Quindi il futuro della Toscana anche nel 2023 vedrà il nostro impegno per quanto riguarda le politiche sociali, le politiche del lavoro, per quanto riguarda la salute dei toscani e per quanto riguarda un sostegno all'economia. Quindi anche attraverso tutta una serie di interventi e di bandi che verranno pubblicati per quanto riguarda il sostegno alle nostre imprese. Sì, sicuramente gli obiettivi sono quelli di sollecitare la Giunta per quanto riguarda il nuovo piano dei rifiuti, per quanto riguarda l'attenzione massima a tutte le crisi aziendali che in questo momento abbiamo anche in Toscana, l'attenzione ai contributi che dovremmo dare ai comuni, che dovremmo dare alle associazioni del terzo settore dopo questa crisi energetica che stiamo attraversando, un'attenzione per quanto riguarda la nascita di questa nuova sviluppo toscana su cui ancora oggi abbiamo e nutriamo una serie di forti dubbi e poi saranno sicuramente propositivi in collaborazione con tutte le commissioni per il bene di tutti i toscani, però ripetendo che ancora oggi aspettiamo il piano regionale di sviluppo e quindi quasi a due anni e mezzo di mandato, non sappiamo quali siano le linee strategiche e di mandato di questa Giunta. Più attività da svolgere, un perimetro di operatività più ampio esteso anche al servizio sanitario e una governance con un consiglio di amministrazione nominato dal Presidente della Regione. E' questo il nuovo assetto di sviluppo toscana. Sì, abbiamo ieri licenziato e approvato questa norma che crea di fatto un'agenzia di sviluppo per la Toscana. Il sviluppo toscana diventa l'agenzia che si occuperà di tutta la parte imprenditoriale e anche molto altro. Diventa uno strumento operativo, uno strumento esecutivo che vuol stare a fianco alle imprese e quindi riguarderà indirettamente anche tutto il collegamento con Sici, con Fidi Toscana e facciamo in qualche modo una rete di tutti gli strumenti che la Regione Toscana ha messo a punto per affiancare il delicato momento anche della fase economica che stiamo vivendo. Quindi ci aspettiamo che sia uno strumento flessibile e che possa essere messo a fianco delle imprese e che va dunque a lanciare la Toscana nel panorama non solo nazionale ma soprattutto internazionale quindi cogliendo anche quelle sfide di mercato che è cambiato molto in questi momenti e che necessita da parte della Regione di avere uno strumento che sappia affiancare le aziende per cogliere tutte le opportunità. Il sviluppo toscano è stata una pagina controversa e difficile da parte di un Consiglio regionale che anche in questo caso si è ritrovato a dover discutere su una proposta di legge dopo una seduta a fiume che naturalmente però arriva in un contesto ancora fortemente incerto anche perché è legata al futuro della finanziaria regionale. È un'operazione assolutamente ambiziosa un'operazione che vede dal nostro punto di vista molte criticità ancora irrisolte anche e soprattutto il ruolo e comunque il contemperamento diciamo tra la sopravvivenza di Fili Toscana e ciò che invece si vuole creare con questa agenzia di sviluppo. Vedremo se col tempo si riuscirà a chiarire ciò che intende la Giunta per braccio operativo del sistema economico regionale ciò che è certo è che oggi in questa fase storica ci ritroviamo senza quello che dovrebbe essere stato invece uno strumento che doveva già essere pronto per sostenere soprattutto le amministrazioni locali in questa fase così delicata. La vicenda di sviluppo toscana si inserisce all'interno di un quadro più ampio che è quello di dotare anche la Toscana anche la regione toscana di una società che possa in qualche modo sostenere e accompagnare il tessuto produttivo imprenditoriale regionale. Noi siamo partiti all'inizio di questa legislatura con la proposta di Gianni di portare in house Fili Toscana. La regione toscana è proprietaria del 50% di Fili Toscana quindi la proposta del PD era compriamo dalle banche anche il restante 50% per poter avere una società che può fare credito e che sostenga il nostro tessuto imprenditoriale. Siamo arrivati al punto esattamente opposto una sorta di salto mortale dal trampolino carpiato dove anziché comprare il 50% che non avevamo la regione toscana ha messo in vendita il 50% che ha per poter provare a fare con sviluppo toscana ciò che avrebbe voluto fare con Fili Toscana. In realtà è un pastrocchio assoluto aggravato dal fatto che sviluppo toscana anziché avere un amministratore unico come aveva fino ad ora avrà con la nuova legge approvata un consiglio di amministrazione nominato per intero dalla giunta che costerà più soldi. Di fatto la regione toscana rimarrà senza un soggetto che possa fare credito che possa sostenere le imprese e le attività produttive toscane anche e soprattutto in virtù del fatto che in Toscana non ci sono più le banche e che quindi le banche chi dà soldi alle imprese a testa e gambe in altre regioni o addirittura in altri stati e questa soluzione non è una soluzione definitiva quindi noi riteniamo che si sia fatto una montagna che abbia partorito un topolino si poteva fare molto di più anche seguendo quello che fanno le altre regioni. Si struttura un soggetto istituzionale importante in aus della regione toscana un soggetto in grado di intercettare fondi comunitari non solo a servizio della nostra regione per i comuni, per le imprese in grado di veicolare per i prossimi sette anni i finanziamenti di carattere comunitario la Toscana aveva bisogno e necessità di un soggetto economico forte che facesse da volano di risorse per la nostra regione. Il futuro della Toscana passa dagli investimenti per le imprese, per gli enti locali per le aziende sanitari i processi di innovazione che non possono non intercettare grandi fondi comunitari quelli del PNRR, fondi nazionali e credo che noi abbiamo fatto una scelta di coraggio che va in una logica riformista che da sempre abbiamo sostenuto come gruppo Italia Viva Il nuovo assetto di sviluppo Toscana a noi fa paura lo diciamo da persone che sono state convinte fino ad oggi del percorso intrapreso dall'assessore Marras cioè quello di trasformare il sviluppo Toscana in una sorta di autentica finanziaria regionale noi ci crediamo in questo progetto ci piace questo progetto ma così come è nato come si sta sviluppando ci fa paura spiego candidamente perché ad oggi noi abbiamo approvato noi, la maggioranza ha approvato una legge che dà la possibilità a sviluppo Toscana di rilasciare garanzie dirette per capirci se l'azienda di Francesco Torselli non ha la possibilità di accedere al credito può farlo e garantisce per Francesco Torselli il sviluppo Toscana il sviluppo Toscana però non è un intermediario creditizio cioè non può avere una controgaranzia da parte dello Stato vuol dire che se Francesco Torselli la sua azienda diventa incapace di pagare diventa un'azienda debitrice nei confronti delle banche il mio debito lo sana sviluppo Toscana che è una società posseduta al 100% dalla regione Toscana quindi se il sviluppo Toscana concede garanzie alle aziende e le aziende saltano ci rimette i soldi il sviluppo Toscana ci rimette i soldi la regione Toscana quindi è un'operazione che espone il patrimonio dell'azienda e il bilancio della regione Toscana a pericolose impennate in negativo una posizione assolutamente contraria per quella che è la visione oggi di sviluppo Toscana non sappiamo quale sarà la fine di Fidi e già pensiamo ad una nuova società in house anche qui mancata programmazione il presidente Gianni in campagna elettorale aveva annunciato che Fidi diventasse la società in house per eccellenza della regione Toscana oggi ci troviamo affinché le quote di Fidi vengano vendute sviluppo Toscana dovrebbe diventare la nuova società in house di regione Toscana con un CDA totalmente nominato quindi un consiglio di amministrazione che è sempre competenza del consiglio regionale nominato direttamente dal presidente quindi non ci sarà nemmeno una possibilità di controllo da parte delle opposizioni in questa nuova società che dovrà nascere di regione